E' chiaro che subito dopo la partita, come avevo anche detto, c'era grande delusione, ma questo credo che sia normale, non ci può essere felicitato con una sconfitta, però l'abbiamo recuperata, la settimana è stata giusta nel senso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo lavorato su quello da lavorare e quindi credo che adesso siamo pronti e consapevoli di ciò che dobbiamo andare a fare. Sicuramente è importante tutto in questo tipo di partite perché sono partite che, come dicevi, valgono una stagione. Chiaramente quel qualcosa in più sicuramente deve partire da ognuno di noi e dalla testa, questo credo che sia fondamentale. Su Nandez si è allenato tutta la settimana, sta bene e quindi farà parte di questa trasferta. Ma sinceramente per quanto riguarda gli altri non penso niente, anche perché sarebbe solo una perdita di tempo e di energie. È chiaro che siamo consapevoli che non dipende solo da noi, però per questa partita questo tipo di considerazione io lo lascerei da parte perché prima bisogna pensare a noi e a quello che dobbiamo fare, a quello che è essenziale fare questa partita, che è fare risultato in ogni maniera. Ma non è il discorso Joe Pedro, io mi aspetto di più da tutti, ma è compreso, nel senso che abbiamo capito che quello che abbiamo fatto non basta e quindi per forza di cose tutti quanti noi, indipendentemente giocatore, allenatore, eccetera, bisogna trovare il modo di mettere qualcosa in più perché questa partita, lo ripeto, non possiamo permetterci di sbagliarla. Per quello che riguarda il futuro, secondo me adesso non è nel mio pensiero, nel momento per parlarne lo faremo poi magari dopo questa partita, ma in questo momento la cosa fondamentale è riuscire a dare tutto quello che possiamo dare e a fare tutto quello che dobbiamo fare. Tutto il resto non dipende da noi, quindi è inutile parlarne. È chiaro che per me il Cagliari è un qualcosa di eccezionale. Io l'unica cosa adesso che penso e che ho in testa per quanto mi riguarda di voler e dover dare tutto quello che è nelle mie possibilità per questa squadra e per questi colori come ho sempre fatto. Mi auguro che tutto si concluda nel migliore dei modi e come ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato, metterò tutto me stesso per fare questo e spero che basti.